Cosimo vive il mondo dall'alto è un breve brano tratto dal Barone Rampante di Italo Calvino. Questo è uno dei tre romanzi della trilogia degli Antenati di Italo Calvino. Questi sono tre capolavori e sono appunto il Visconte di Mezzato che è il primo, il Barone Rampante che è il secondo di questi romanzi, il Cavaliere Inesistente che è il terzo. Questo romanzo, come gli altri due, presenta degli aspetti fantastici, diciamo iperbolici quantomeno. Infatti dovete sapere che il protagonista di questo romanzo, che aveva più o meno la vostra età, per dispetto nei confronti dei genitori, ha deciso di andare a vivere sugli alberi. È stata però una scelta definitiva. Cioè lui ha detto che andrò a vivere sugli alberi per tutta quanta la vita. E l'ha fatto davvero. È rimasto a vivere sugli alberi. È una vicenda paradossale. È vero che la Liguria è piena di alberi. Adesso è probabilmente nel Settecento, perché questo romanzo è ambientato nel Settecento. Il Settecento, non a caso, è l'epoca dell'inunismo, era probabilmente ancora più pieno di alberi. Ma questo forse non giustifica il fatto che uno riesca a vivere tutta quanta la sua vita, persino a dormire sugli alberi, come avviene a Cosimo in questo romanzo. Dicevamo però che anche un testo simbolico, cioè il fatto che lui rimanga tutta quanta la vita a vivere sugli alberi, pertanto il fatto che lui viva tutta quanta la vita sugli alberi, guardando pertanto la realtà dall'alto, ha un valore simbolico. Dicevamo che è una specie anche di simbolo del modo di vedere il luministico delle cose, cioè di vedere la realtà nel modo razionale, oggettivo, dall'alto appunto, il più oggettivo possibile, quindi senza un'immedesimazione soggettiva, come avviene per esempio in altre epoche, come per esempio quella romantica. Chi vuole guardare bene la Terra, quindi chi vuole guardare bene la realtà, il mondo, deve tenersi ad una debita distanza. E' un po' forse questo il messaggio che ci viene dato dal neo-illuminista Italo Calvino, uno scrittore che del resto noi già conosciamo, se ben ricordate, abbiamo letto un brano dal testo Se una notte d'inverno il viaggiatore. Cosimo tutti i giorni era sul frassino, o su altri alberi, come vedremo adesso ce ne saranno anche altri, a guardare il prato come se in esso potesse leggere qualcosa che da tempo lo struggeva dentro, l'idea stessa della lontananza, dell'incolmabilità, dell'attesa che può prolungarsi oltre la vita. Ecco, è una vicenda fantastica, se vogliamo addirittura una vicenda quasi da fiaba, ma è anche una vicenda che è un simbolo, diciamo, che c'è tutte le cose, le riflessioni che fa Cosimo, ci aiutano a riflettere sulla nostra vita stessa, sulle nostre aspettative, come appunto la frase che abbiamo appena letto. Ma in tutta quella smania c'era un'insoddisfazione più profonda, una mancanza in cui cercare gente che l'ascoltasse, c'era una ricerca diversa. Cosimo non conosceva ancora l'amore. E ogni esperienza senza quello, che cos'è? Che vale aver rischiato la vita quando ancora della vita non conosci il sapore? Questo brano è tratto da un capitolo seguente rispetto al brano successivo, insomma, rispetto al brano che noi andremo a leggere adesso, che è tratto dal secondo capitolo. Quindi nei capitoli seguenti Cosimo incontrerà anche l'amore, una donna si innamorerà di una donna. Certamente, come dire, il rapporto con questa donna non sarà molto facile, perché lui comunque da questa sua legge e regola di vita non è assolutamente disposto a derogare. Cioè deve vivere tutta quanta la sua vita e anche i suoi mori sugli alberi. Sì, sì, lo dice come fa a mangiare. Un po' lo aiuta anche il fratello, diciamo la verità, nel senso che lui è un figlio di nobili, insomma, è un figlio di un barone, appunto. E quindi il fratello gli porta anche da mangiare. Però qualcosa se lo procura anche in vario modo, si procura anche da mangiare. Insomma, l'autore, utilizzando l'allegoria dell'uomo che vive sugli alberi, distaccato da tutti e da tutto ciò che accade, ha voluto raccontare il suo stato d'animo, e specialmente la condizione propria di ogni uomo. Vuole mettere in evidenza la condizione di estrema solitudine di ogni uomo durante la sua breve vita. La solitudine è anche ricercata. Perché se tutti, per esempio, impazziscono, o non capiscono niente, o si lasciano, per esempio, trasportare dalle idee della maggioranza, o di un tiranno, va la pena essere soli, no? Ci fa capire Italo Calvino. Va la pena, certe volte, essere soli. Cioè, estragnarsi, abbiamo detto, dalla realtà. Non lasciarsi coinvolgere troppo. Perché se ti lasci coinvolgere troppo, vuoi appartenere, per forza, per esempio, ad un gruppo, ti lasci trascinare dagli altri, non pensi più con la tua testa. Inoltre, la fragilità e la corruttibilità della condizione umana, messe in luce dal fatto che Cosimo vive su sostegni fragili, come i rami degli alberi, che sembrano forti all'apparenza, ma che si rivelano poi vulnerabili ad ogni genere di pericolo. Addirittura, questo romanzo è stato interpretato nei modi più svariati. Alcuni l'hanno interpretato proprio così. Noi, uomini, siamo come la gente che vive sugli alberi. Tra l'altro, noi abbiamo anche questa origine. Nel senso che i nostri antenati, o predecessori, meglio, vivevano sugli alberi. Poi l'uomo, in quanto tale, ha deciso di vivere sulla savana, quindi nella savana, volevo dire, e quindi di scendere dagli alberi. Però rimane un po' questo retaggio, se vogliamo. E questo è un simbolo comunque di debolezza, di fragilità, perché non è solido l'albero, non è come vivere sulla terra. Lo sguardo dagli alberi è anche metafora del lume della ragione, però vi ho detto. C'è questo aspetto contenutistico che è importantissimo, ve l'ho detto sin dall'inizio. È un romanzo non a caso ambientato nell'epoca dell'illuminismo. Infatti, il lume della ragione, a partire appunto da Settecento, permette all'uomo di giudicare ciò che accade con oggettività e con razionalità. Ecco, il romanzo è narrato da chi? Lo vediamo nella prossima slide. Il romanzo è narrato in terza persona con un narratore interno, però. Non è in terza persona un narratore esterno, onnisciente, che non c'entra niente con la vicenda. Chi racconta è il fratello di Cosimo, Biagio, il fratello minore del protagonista, che è molto affezionato a Cosimo. Come avevo già spiegato anche prima, per esempio, gli porta da mangiare, gli fa visita spesso, insomma. È un legame che è rimasto fra Cosimo e la sua famiglia. dal momento che lui è sempre stato molto lontano dai suoi genitori. I suoi genitori rappresentano e simboleggiano, se vogliamo, l'ancien regime, cioè il modo di pensare l'etica aristocratica tradizionale del passato. Ecco, invece, dicevamo, è molto legato a Biagio, ma Biagio non ha il coraggio di Cosimo. Cosimo ha il coraggio addirittura di lasciare la famiglia. Certe volte, anche noi, in questi anni, probabilmente, stiamo vivendo certe volte una certa tensione con i nostri genitori. È, se vogliamo, naturale nell'età adolescenziale. Ma per Cosimo questa conflittualità condiziona tutta quanta la sua vita. Non è una tensione che poi, come nel caso di Biagio, ad esempio, può essere, può trovare una conciliazione. No, per Cosimo non c'è più nessuna possibilità di conciliazione con quel mondo, il mondo della sua famiglia. Ha deciso di farne a meno per sempre. Ha deciso di ribellarsi. Spesso c'è in noi, adolescenti, voi, perché ormai io, purtroppo, non lo sono più. Sono, ne dentro sono ancora giovane. Sì, sì, appunto. In voi c'è questo senso di ribellione. Certe volte. E certe volte anche salutare. Diciamo, in un certo senso, non dico ribellarsi ai propri genitori, ma individuare una propria strada che sia diversa, magari, da quella dei genitori. Però Cosimo è molto radicale in questo. E Biagio non lo è. Non sarebbe mai, Biagio non sarebbe mai stato capace di una scelta così radicale, di abbandonare per sempre la famiglia, come invece ha deciso di fare Cosimo. Ma è arrivato il momento di leggere il brano che è riportato su una nostra antologia che abbiamo così intitolato Cosimo vive il mondo dall'alto. Ed è, come ho già spiegato, tratto dal secondo capitolo. Cosimo era sull'Elce. Ecco, mi hanno detto che poi passa attraverso, se voi leggete, spero che mi venga voglia di leggere questo romanzo, perché è davvero, lo ve l'ho già detto, un capolavoro. Vedrete che ogni volta e ogni giorno lo troviamo Cosimo su un albero diverso. I rami si sbracciavano, alti ponti sopra la terra, tirava un lieve vento, c'era sole, il sole era tra le foglie, e noi per vedere Cosimo dovevamo farci schermo con la mano. Ah sì, ricordatevi che è Biagio che racconta. Quindi lui, fratello minore dal basso, per vedere il fratello maggiore che ormai vive sugli alberi, in quella giornata, così soleggiata, addirittura deve farsi schermo con la mano. Cosimo guardava il mondo dall'albero, ogni cosa vista di lassù era diversa, e questo era già un divertimento. Ecco, ve l'ho già detto, poi il cuore, perché abbiamo scelto questo brano? Perché questo è il cuore di questo romanzo, queste frasi, guarda il mondo dall'albero, guarda il mondo dall'alto, ogni cosa è diversa, questo è già un divertimento, per carità, però non si tratta di un'evasione momentanea, Cosimo poi decide tutta quanta la sua vita di vedere il mondo dall'alto. Il viale aveva tutta un'altra prospettiva, e la iole, le ortenzie, le camelie, il tavolino di ferro per prendere il caffè in giardino. Ecco, questa è un'altra cosa molto interessante per noi, cioè, se guardiamo, se osserviamo la realtà da un altro punto di vista, la realtà ci appare diversa, e questa è sicuramente una tematica molto presente in tutti i testi del Novecento, della narrativa del Novecento, tipo l'attimo fuggente, bravissimo, anche in quel caso, ricordate il capitano, che poi era il professore, aveva invitato i suoi studenti a guardare le cose da un altro punto di vista, cioè addirittura, a salire sopra i banchi, e quindi è un po' questo che ci invita a fare Italo Calvino, vedere le cose da un altro punto di vista, scoprire che la realtà è più complessa, forse, di quello che noi immaginiamo. Più in là, le chiome degli alberi si sfittivano e l'ortaglia digradava in piccoli campi a scala, sostenuti da muri di pietra. Eh, l'ortaglia sarebbe gli orticelli, no, che c'erano lì vicino. Il dosso era scuro di oliveti e dietro l'abitato di Ombrosa sporgeva i suoi tetti di mattone sbiadito a Erdesia e ne spuntavano pennoni di bastimenti, là dove sotto c'era il porto. Ecco, Italo Calvino è originario di... è un Sanremese, diciamo. Lui in realtà è nato a Cuba, perché, combinazione, la sua famiglia era a Cuba quando lui, appunto, è nato, perché erano dei botanici. Perché a Sanremo ci sono ancora oggi molte persone che vivono con il commercio dei fiori. Ma i suoi genitori non erano solo e semplicemente commercianti di fiori, erano anche esperti di fiori. E quindi hanno inculcato in lui un amore per la natura, senz'altro, e per la scienza. Ecco, stavamo dicendo che questa cittadina, però, la cittadina di Ombrosa è una cittadina inventata. Cioè, capiamo da tutta una serie di fattori che il romanzo è inventato in Liguria, ma in realtà non esiste nessuna città della Liguria che si chiami così. Cioè, scusate, anche Camilleri è un siciliano, ma non esiste una città della Sicilia che si chiama Vigata o Montelusa. Sono delle invenzioni narrative di questi grandi narratori. In fondo si stendeva in mare, alto d'orizzonte, ed un lento veliero vi passava. Ecco che il barone e la generalessa, dopo il caffè, uscivano in giardino, guardavano un rosaio, ostentavano di non badare a Cosimo. Attenzione, abbiamo detto che i genitori di Cosimo rappresentano, in un certo senso, gli antagonisti. Cioè, tutto il contrario di quello che è Cosimo. Cioè, mentre Cosimo è attento alle novità, cioè curioso, desideroso di imparare di più, di conoscere di più, di vedere le cose da altri punti di vista, di cambiare, di migliorare, di ragionare sulle cose senza badare a ciò che è già precostituito, perché ce lo porta alla tradizione. Invece, i suoi genitori erano conservatori, erano tradizionalisti, erano molto maniaci delle abitudini e ostentavano di non badare a Cosimo. Lui non vuole avere più nulla a che fare con loro, ma anche loro non vogliono avere più nulla a che fare con lui. Si davano il braccio, ma poi subito si staccavano per discutere e far gesti. Io venni sotto l'elce, invece, come giocando per conto mio, ma in realtà cercando di attirare l'attenzione di Cosimo. Ricordate che siamo nel secondo capitolo, quindi è appena avvenuto lo strappo fra Cosimo e la sua famiglia e, come abbiamo già spiegato in precedenza, con i genitori questo strappo risulta subito insanabile, mentre Biagio rappresenta un tramite, insomma, almeno qualcosa che ancora minimamente lo lega alla sua famiglia. Perché Cosimo è, abbiamo detto, è legato al fratello. Lui però mi serbava rancore e restava la sua guarda allontana. Come dire, eh, caro Biagio, non sei stato capace però di fare anche tu quello che ho fatto io. Ecco perché serba rancore. Perché in colpa Biagio di essere un debole essenzialmente. Smisi e ma coccolai dietro una panca per poter continuare a osservarlo senza essere veduto. Biagio si trova un po' a metà, diciamo, nel senso che non vuole assolutamente lasciare i suoi genitori e il legame che ha con loro oppure in qualche modo si sente legato a Cosimo. Ma, diciamo, è uno stare in mezzo un po' scomodo per il nostro narratore Biagio. Mio fratello stava come di vedetta, guardava tutto e tutto era come niente. Tra i limoneti passava una donna con un cesto. Saliva un mulattiere per la china reggendosi alla coda della mula. Non si videro tra loro. La donna al rumore degli zoccoli ferrati si voltò e si esporse verso strada ma non fece in tempo. Si mise a cantare allora ma il mulattiere passava già la svolta tese l'orecchio schioccò la frusta e alla mula disse Oh! E tutto finì lì. Cosimo vedeva questo e quello. Come vedete questo brano si conclude con questa semplice notazione. La vita la realtà continua a scorrere e come dire anche la gente è indifferente al fatto che Cosimo stia lì sugli alberi. Lui comunque rimane lì vede questo e quello come vedremo o meglio come vedrete voi se vorrete continuare a leggere questo bellissimo romanzo. Questo non vuol dire che Cosimo però sia del tutto slegato dalla realtà anzi cercherà di interessarsi alle cose che fanno gli uomini quindi anche alla politica e continuerà a vedere questo e quello e cioè a giudicare la cosa principale che fa uno perché è chiaro che quando uno è sugli alberi non è che sempre possa modificare la realtà e il mondo che sta sotto dal momento che rimane sempre sopra però continuerà a giudicare razionalmente e ragionevolmente dall'alto tutto quello che vede e tutto quello che avviene.